Nascondeva la droga all'interno di palloncini gonfiabili di gomma per preservarla dagli agenti atmosferici. Nelle scorse ore un pusher di 50 anni è stato arrestato a bisceglie dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e poi rinchiuso nel carcere di Trani. I militari nel contesto di uno specifico servizio antidroga hanno intercettato l'uomo nella zona adiacente il porto. In particolare sono riusciti a localizzare il posto in cui lo spacciatore preparava e nascondeva gli stupefacenti destinati al florido mercato locale. Durante il blitz l'uomo è stato sorpreso dagli uomini dell'arma mentre era intento a manipolare in tutto 160 grammi di cocaina, 140 grammi di eroina e 50 grammi di hashish.